E ora vediamo un bel esempio di valorizzazione territoriale e sociale. Si tratta dell'inaugurazione dell'Osteria di Villalba all'interno della grande area verde nella selva di Meana in comune di Allerone. Vediamo di che si tratta. È stata inaugurata nell'area naturale protetta della selva di Meana, al confine fra Umbria, Lazio e Toscana, grazie al lavoro della cooperativa sociale OASI, l'Osteria di Villalba nel comune di Allerone. Il progetto, studiato per offrire ospitalità al viandante, comporta la creazione di dieci posti di lavoro anche per persone svantaggiate, in un'area molto pregiata dal punto di vista ambientale che finora era priva di qualsiasi utilizzo. È stata così restaurata un'antica struttura, intesa come Osteria alla maniera antica, per offrire recittività in un ambiente ricchissimo di verde. Grazie alla combinazione di risorse pubbliche e del consorzio di cooperative sociali coeso, un grande patrimonio comune torna così ad essere animato, dando una spinta ad un diverso sviluppo del territorio. In questo caso si sono messe in moto le passioni e le energie del terzo settore, delle cooperative sociali e delle persone deboli, le quali, unendosi, diventano forti. La cooperazione ha un grande valore perché ci consente appunto di valorizzare degli immobili che altrimenti magari andrebbero in disuso, ci consente di valorizzare anche delle aree, quindi dei terreni dove le cooperative si stanno impegnando, magari utilizzando anche persone che hanno dell'invalidità o che hanno degli handicap che altrimenti magari si troverebbero emarginati dalla società e invece in questo modo magari trovano la possibilità di potersi impegnare, di poter portare anche loro il loro contributo per uno sviluppo della nostra comunità.